La fermata di Ceriano Laghetto Groane venne aperta all'esercizio il 9 dicembre 2012, in occasione del prolungamento della linea S9 da Seregno a Saronno e la conseguente riapertura della tratta al traffico viaggiatori. La fermata è stata chiusa in occasione dell'entrata in vigore del nuovo orario invernale il 10 dicembre 2018. L'impianto è posto circa 1 200 m a ovest della vecchia stazione di Groane, dismessa dal 1958, anno di chiusura della linea Seregno Saronno al servizio viaggiatori, ed oggi in uso solo per servizio merci. Il sindaco di Ceriano Laghetto, aveva affermato. La soppressione totale della fermata Groane rappresenterebbe un errore, visto che è stata inaugurata solo sei anni fa, dopo lavori lunghi e investimenti ingenti. Per Ceriano Laghetto l'apertura di quella fermata, lasciata incustodita in mezzo al bosco, ha portato molti più danni che benefici con l'arrivo sul territorio di tossicodipendenti da mezza Lombardia. Ora la beffa di togliere tutti i treni creando disagio anche a quei pochi, coraggiosi, studenti e pendolari che la utilizzano per andare e tornare da scuola e lavoro. Insieme al consigliere regionale Andrea Monti chiedo che si riveda il piano lasciando i treni nelle fasce orarie più usate dai pendolari. Purtroppo, a nulla è servito. La stazione resterà chiusa almeno per due anni, in un piano di razionalizzazioni che suona sempre più come una beffa. Ma non doveva servire per migliorare i turni del personale e il materiale. Che c'entrano queste stazioni? È così che si combattono il degrado e la droga, eliminando tutto alla radice. Forse, non ci sono parole.